... papà non te le mia sentia questa però è muso no all'ospedale c'è l'operatoria e tutti incestati dopo tre ore il frano e il marito e l'amico così persino la buona perchè il teo qua in faccia e parlava oh Giovanni che amico queste sei Giovanni guardate mi aspetta fino adesso Giovanni ma cosa mi sono incestati sta fermo Piero che mi ha messo in porta ma guarda qua come sono messo là tutto incestato sta calmo dove è la mia moglie anche la mia moglie mi ha messo la mia moglie ma che amico te mi aspetta fino a dire dimmi mi fio come è anche lui che ha i braci roti mi ha messo la mia moglie e continuava a parlare dimmi mia suocera la mia moglie voleva mi dirte la favoletta purtroppo l'è morta stai a farmi ridere che mi tiri i punti la mia moglie 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 non è I don't know more. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.